Abbiamo parlato in precedenza di cosa è la preghiera, cioè espandere il proprio cuore, la propria anima davanti a Dio. Poi abbiamo parlato anche delle cose che erano necessarie che ci fossero per ottenere l'esaudimento della preghiera. Bisogna camminare in maniera come piace a Dio, in maniera santa, quindi non bisogna vivere nel peccato. Poi bisogna pregare con fede e in ultimo c'è bisogno anche che sia secondo quello che abbiamo chiesto affinché si adempia, affinché la preghiera sia esaudita, è necessario che sia secondo la volontà di Dio. Poi abbiamo visto anche che è buono, è cosa buona, pregare aiutandosi anche con i salmi, con i salmi o con altre preghiere che sono scritte nella Bibbia. Quindi la parola di Dio ci aiuta a pregare, anche ci insegna le parole che noi dobbiamo aggiungere al nostro vocabolario della preghiera, quelle parole, quelle frasi di cui noi abbiamo bisogno per rivolgerci a Dio, per imparare appunto a pregare, per sapere qual è la maniera corretta per rivolgerci a Dio. Altre cose che la scrittura ci insegna sono i soggetti di preghiera, cioè alcune cose che noi dobbiamo domandare a Dio, cioè ci sono delle cose che Dio gradisce che noi le domandiamo in preghiera. E se noi leggiamo, prendiamo la prima epistola di Timotio al capitolo 2, dal versetto 1. L'Apostolo Paolo scrive queste parole a Timotio. Io esorto dunque, prima di ogni altra cosa, che si facciano supplicazioni, preghiere, intercessioni, ringraziamenti per tutti gli uomini, per il Re, per tutti quelli che sono in autorità, affinché possiamo menare una vita tranquilla e quieta, in ogni pietà e onestà. Quindi vedete, l'Apostolo Paolo esorta Timotio. Esorta Timotio, gli dà in queste epistole le istruzioni per insegnargli le cose, per dargli una linea guida, per poter, diciamo, insegnare le basi alla chiesa di Efeso, mi sembra. Ti ripeto l'esortazione, quando andavo in Macedonia di rimanere ad Efeso, sì, per non confondermi con Tito, che era rimasto a Creta per ammaestrare, per stabilire degli anziani a Creta, mentre Timotio aveva ricevuto l'incarico di rimanere ad Efeso per, diciamo, stabilire degli anziani anche lui e per dare una linea guida, diciamo, affinché le chiese crescessero spiritualmente, ricevessero le basi, le fondamentali del consiglio di Dio e dopo, quando potevano, quando raggiungevano una certa maturità spirituale, potevano poi camminare da sole e Timotio magari si poteva dedicare ad altre attività in altri luoghi. Quindi, tra le cose che l'Apostolo Paolo ha esortato a fare e a insegnare, a dire a Timotio, c'erano anche queste, e gli ha detto così, infatti, io esorto. Quindi, Paolo lo esortava, esortava Timotio e di conseguenza Timotio doveva a sua volta esortare i fratelli e la chiesa di Efeso. Io esorto dunque prima di ogni altra cosa. Il fatto che dica prima di ogni altra cosa significa che queste cose che gli sta dicendo Paolo erano molto importanti, cioè bisognava tenerle in grande considerazione. Che si facciano supplicazioni, preghiere, intercessioni, ringraziamenti per tutti gli uomini. Quindi l'esortazione che Paolo dava a Timotio era che si dovevano fare delle supplicazioni, cioè dovevano implorare il Dio affinché egli concedesse la sua grazia, affinché la sua ira magari fosse placata per qualche motivo che si era scatenata. Dovevano pregare, dovevano intercedere, vedete, anche intercedere, perché noi cosa dobbiamo fare? La chiesa cosa deve fare? Deve anche intercedere per gli altri, intercedere presso Dio per chiedere qualcosa che riguarda gli altri fratelli. Gli altri fratelli e anche quelli del mondo. Ringraziamenti per tutti gli uomini. Quindi supplicazioni, preghiere, intercessioni e ringraziamenti per tutti gli uomini. Per tutti gli uomini chi? Per tutti gli uomini sia credenti che sia non credenti. Per tutti quelli che Dio ci mette vicini, in qualche maniera che noi abbiamo conosciuto, abbiamo evangelizzato, che sono i nostri vicini, sono i nostri parenti, tutti quelli che noi, diciamo, abbiamo avuto contatti, cioè cominciando da questi. E poi tutti quelli che Dio ci metterà in cuore, per cui dobbiamo pregare, intercedere, supplicare che Dio abbia pietà di loro, magari. Ringraziare Dio per i fratelli, per qualche cosa che Dio ha fatto per qualcuno. E pregare, pregare, pregare dunque per loro. Quindi per i non credenti la prima cosa che dobbiamo domandare, naturalmente, è prima di ogni altra cosa, è la salvezza della loro anima. perché Dio vuole che noi preghiamo per tutti gli uomini. Noi sappiamo bene che nelle scritture è stabilito, il Signore ci ha fatto sapere attraverso le scritture, che saranno salvati solamente quelli che Lui ha stabilito, che prima della fondazione del mondo ha scritto i loro nomi nel Libro della Vita. Questo noi lo sappiamo, ma noi non conosciamo quei nomi. quindi non sappiamo, non sappiamo se le persone con cui abbiamo a che fare, le persone che sono vicine a noi, quelle che ci sentiamo di pregare per loro, o di annunziargli anche quindi anche l'Evangelo, noi non sappiamo se quelle sono preordinate a vita eterna, non lo sappiamo. E noi dobbiamo annunziare l'Evangelo, dobbiamo pregare per la loro salvezza come se fosse in quella maniera, come se dipendesse da loro, aprire il loro cuore, essere salvati e come se dipendesse in quel momento dal nostro parlare o dalla nostra preghiera. Cioè, questo deve essere il nostro sentimento, il nostro ardore, il nostro fervore nel pregare, soprattutto nel pregare e anche nell'annunziare l'Evangelo a tutti gli uomini che ci troviamo di fronte, che lo Spirito Santo ci sospinge a parlare, oppure ci sospinge a pregare per loro. Lo dobbiamo fare avendo fiducia che Dio ascolta queste preghiere, che sono secondo la sua volontà, che Egli gradisce queste preghiere di intercessione, queste preghiere per tutti gli uomini, perché così è scritto. Noi non sappiamo se questi si convertiranno, quindi se si convertono noi siamo servi disutili, nel senso che a Dio sia tutta la gloria, ma se non si convertono noi il nostro servizio, quello che Dio vuole che noi facessimo, l'abbiamo fatto e quindi non siamo responsabili, non abbiamo la responsabilità, perché le anime non si convertono perché l'uomo riesce a parlare bene o perché ha fatto qualcosa all'uomo, ma perché secondo la volontà di Dio, è Dio che salva, la salvezza appartiene all'Eterno, il Dio. La salvezza appartiene a Dio, però a noi cosa ci è dato? L'Apostolo Paolo quindi qui esorta a pregare per tutti gli uomini. Quindi come in altri punti Gesù ha detto andate, ammaestrate tutti i popoli, quindi annunziare l'Evangelo a tutte le genti. Quindi queste sono le cose che dobbiamo fare, annunziare l'Evangelo e pregare per tutti gli uomini. Questo ci è stato comandato e questo dobbiamo fare. Benché crediamo, attenzione, chi ci crede, ma è così, è biblico, è confermato, poi parleremo anche della predestinazione. Anche se è scritto nella parola che Dio salva solo una cerchia di persone, quei nomi che sono scritti nel Libro della Vita prima della fondazione del mondo, noi questi nomi, non conoscendoli, non dobbiamo tenere conto di questo. Dobbiamo tenere conto piuttosto che la volontà di Dio è che noi annunziamo l'Evangelo a tutti e che insistiamo pure, quindi annunziamo l'Evangelo, ma poi effettuiamo una insistenza in preghiera, spingiamo i Dio affinché siano salvati. Questa è l'azione verso tutti gli uomini che noi dobbiamo fare, per cui Paolo ha esortato Timoteo a insegnare queste cose alla Chiesa. E nella stessa maniera Paolo sta esortando noi a pregare per tutti gli uomini, a pregare in una maniera anche da intercedere, ringraziare Dio quando Egli ci ascolta, ci esaudisce e dona qualcosa a qualcuno di coloro che noi conosciamo, ringraziamo il Dio. Intercediamo verso quelli che hanno bisogno, in qualche maniera intercediamo come dire Signore libera quel fratello da quel peccato che sto commettendo, aprigli la mente e il cuore, fagli intendere che sta peccando, non distruggerlo, non punirlo come si meriterebbe, ma abbi misericordia di Lui, fagli intendere, fallo uscire da quella falsa dottrina, fallo uscire da quella falsità in cui è caduto. Oggi possiamo anche pregare tranquillamente, perché questa è la volontà di Dio dicendo, Signore fagli uscire da queste denominazioni massonizzate, da queste denominazioni dove si insegna, dove si sparge il veleno che distrugge le anime dei santi. Signore falli uscire, quindi noi stiamo intercedendo, vedete, per i santi, stiamo intercedendo per i figlioli di Dio, vogliamo il loro bene, non il loro male. E questa è la volontà di Dio, è questo che dobbiamo fare, questo piace al Signore. Dobbiamo supplicarlo proprio che liberi i fratelli da ogni peccato, che li liberi da ogni prigionia, che li liberi da ogni catena, da tutto ciò che li lega, che siano liberati. Signore, concedi la grazia, non solo dobbiamo pregare per noi, fratelli, ma dobbiamo anche pregare per gli altri. E qui dice appunto di pregare per tutti gli uomini, perché innanzitutto dobbiamo concentrarci sul bisogno effettivo, cioè bisogna proprio pregare nominativamente, specificamente per quella persona. Se voi sapete che io ho un bisogno, una necessità, un problema, se voi sapete che un fratello o una sorella hanno un particolare tipo di problema, bisogna pregare nominativamente per quella persona affinché quella cosa sia risolta o abbia ciò di cui necessita. Questo è quello che bisogna fare in preghiera, questo è quello che Dio richiede ai santi. Quindi bisogna farlo, bisogna farlo. E anche ringraziare Dio, anche i ringraziamenti per tutti gli uomini bisogna fare. Quando poi il Signore ascolta, quando il Signore dà liberazione, quando udiamo che Dio ha liberato qualcuno da queste denominazioni massonizzate, li ha liberati da una falsità, li ha liberati da un certo peccato, li ha liberati, li ha fatto comprendere che si trovavano in una situazione di peccato e questi hanno chiesto perdono a Dio, noi ringraziamo il Dio Signore, grazie perché hai fatto comprendere queste cose al fratello e hai avuto misericordia di lui, hai avuto misericordia di lui. E noi ringraziamo il Dio per questi fratelli, per tutti gli uomini. Un'altra cosa che qui ha esortato l'Apostolo Paolo Timottio, per quanto riguarda la preghiera, è come abbiamo letto al versetto 2, che bisogna pregare per il re, per tutti quelli che sono in autorità. Ecco, quindi questo è un altro soggetto di preghiera che noi dobbiamo tenere da conto, cioè dobbiamo ricordarci nelle nostre preghiere che dobbiamo pregare anche per chi ci governa, per il Parlamento, per il governo, anche per le autorità, quelle che amministrano la giustizia, quindi la magistratura, i tribunali, i giudici che devono giudicare. Quindi cosa faremo? Domanderemo, prima di tutto, domanderemo che Dio li benedica e li preservi da ogni male, che li salvi e gli doni quella sapienza e quell'intelligenza di cui hanno necessità per poter svolgere il compito, il compito che gli è stato assegnato e che se compiuto nella maniera corretta porta del bene a tutto il popolo, anche ai credenti, anche ai cristiani. Ad esempio, anche le forze di polizia, noi a volte sentiamo, magari appare di più nei mass media, appaiono più gli scandali delle forze di polizia, dei magistrati, del governo, ma non appaiono, appare di meno le cose giuste che fanno. Perché, badate bene, noi, tutto sommato, possiamo vivere una vita tranquilla, pacifica oggi. Infatti, se voi leggete al versetto 2, pregare per i re, per tutti quelli che sono in autorità, affinché, vedete, il fine qual è? Affinché possiamo menare una vita tranquilla e quieta in ogni pietà e onestà. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che se preghiamo per le autorità e Dio ci ascolta, può farci vivere una vita pacifica e tranquilla, come poi, tutto sommato, oggi noi in Italia stiamo vivendo. Quindi l'autorità, il governo, ci sta comunque facendo vivere una vita tranquilla, possiamo lodare Dio, possiamo glorificare il Signore, incontrarci, rendere un culto a Dio, senza che nessuno fondamentalmente ci perseguiti. Magari ci prendiamo qualche insulto, qualche volta, perché diciamo certe cose contro i cattolici o anche contro certe denominazioni massonizzate. Ma tutto sommato non siamo perseguitati, non siamo incarcerati e non siamo fustigati. E ne tantomeno per adesso e per adesso rischiamo la vita. E questo è perché ci è dato da queste autorità, che comunque stanno mantenendo una certa libertà. Noi credenti non siamo come taluni, purtroppo si sente o scrivono o lo dicono a voce, scherniscono le autorità, le prendono in giro, fanno le barzellette, parlano male, le maledicono in tante maniere. Ecco, i credenti, i cristiani, quelli che vogliono fare la volontà di Dio, le autorità non le maledicono, non fanno le barzellette e non dicono niente contro di loro. Perché? Perché tutte le autorità costituite, tutte, dico tutte, sono comunque costituite da Dio come autorità. Sia quando ci sono tempi di distretta per la Chiesa, quindi quando c'è la persecuzione, perché significa che Dio ha voluto agire in quella maniera, e sia quando le autorità diciamo lasciano libera la Chiesa di adorare e glorificare il Signore. Infatti ricordatevi che le autorità furono costituite da Dio anche quando Israele fu punita e portata in cattività. Quando i romani andarono a distruggere nell'anno settanta dopo Cristo Gerusalemme e il Tempio, distrussero anche il Tempio, fu sempre per volontà di Dio, quindi quelle autorità furono costituite per volontà di Dio. Anche oggi, come allora, anche oggi le autorità sono costituite da Dio e sono messe lì per mantenere un certo ordine, che comunque, oggigiorno, noi guardiamo a noi adesso in questa nazione, un certo ordine è mantenuto, una certa pace, serenità, ce l'abbiamo, certo non è che tutti i problemi sono risolti, c'è il problema del lavoro, ci sono tanti problemi, ci sono, però altre questioni sono, diciamo, a posto, cioè possiamo riunirci, lodare il Signore, glorificare e anche annunziare l'Evangelo per strada liberamente, tutto sommato si può fare. Ci possiamo riunire qui in conferenza per parlare del Signore, se non c'è quindi la persecuzione. E questo chi ce lo permette? Ce lo permette prima di tutto, è vero, il Signore, ma ce lo permette attraverso le autorità. Ecco quindi che queste autorità hanno bisogno, essendo comunque costituito da Dio, e qui è scritto che dobbiamo pregare per le autorità. Quindi noi, fratelli, la Chiesa ha quest'obbligo di pregare per le autorità, di pregare per il governo, per il Presidente della Repubblica, per tutto il Parlamento, per il potere esecutivo costituito dalla magistratura, dai tribunali magistrati che fanno le indagini, che guidano le indagini delle forze dell'ordine, per fare le indagini, per eliminare malfattori dalla circolazione, i tribunali che poi giudicano. Ora, lasciamo stare che molti giudizi sono aggiustati e certe cose, perché sono uomini corrotti, uomini che non sono comunque credenti, quindi possono fare il loro lavoro anche in maniera sbagliata, non è che adesso tutto è giusto, però massimamente le forze dell'ordine comunque mantengono l'ordine. Ci sono dei problemi, ma l'ordine comunque è mantenuto. I magistrati comunque le indagini verso i malfattori, quelli le fanno. I tribunali comunque giudicano, a volte si sbagliano, a volte invece giudicano rettamente e quindi con dirittura e rettitudine, capite? E quindi mettono in galera i delinquenti, i delinquenti vanno in galera, oppure comunque cessano di fare il male che stavano facendo. Ora, qui la scrittura dice, dice appunto che noi ci dobbiamo ricordare di pregare per le autorità, quindi dovete segnarvelo nel vostro quaderno delle preghiere, nella vostra lista ve lo dovete segnare. Questa è una di quelle cose che non può mancare nelle nostre preghiere, sia quelle private, personali, quando ci chiudiamo nella nostra cameretta, ma anche in quelle pubbliche. Quelle pubbliche è importantissimo, perché? Perché quando inizierà la persecuzione, perché prima o poi inizierà, abbiamo avuto delle fasi che si alternano tra persecuzione e libertà, adesso siamo nella libertà e potrebbe essere che a breve, o non so quando, ci potrebbe essere la persecuzione. Ma quando manderanno le loro spie per sentire ai nostri culti come ci comportiamo, qual è tutto questo danno che facciamo noi per questo Stato, quando lo odiamo in Dio, quando ci sentiranno pregare per le autorità, per le forze dell'ordino, che Dio li benedica, li preservi da ogni male, che gli dia sapienza e intelligenza per compiere il loro lavoro, affinché mantengano l'ordine e compiano ogni cosa con dirittura e rettitudine. Anche quando manderanno le loro spie dovranno sentire questa cosa, questa preghiera che noi facciamo per loro. Quindi adesso le facciamo, non ci sono tempi sospetti di persecuzione, però devono già cominciare tutti a sentire che noi preghiamo per le autorità, perché è una cosa buona, piace al Signore e porterà il suo frutto, capite? E dobbiamo farlo sia personalmente che farlo quando siamo riuniti tutti insieme, pregare anche per le autorità, perché lo scopo è quello appunto che Dio li benedica e ci porti a vivere una vita tranquilla e pacifica, capite? Quindi oggi godiamo di questa benedizione che non siamo perseguitati e quindi oltre che chiedere a Dio di benedire queste autorità noi lo ringraziamo per la libertà che Lui ci ha dato di lodarlo e glorificarlo dovunque ci troviamo. Quindi abbondiamo anche di ringraziamenti verso il Signore. Quindi segniamoci, segniamoci anche questo soggetto di preghiera nel nostro quaderno delle preghiere per ricordarci di innalzare queste preghiere, queste preghiere verso le autorità che sono state costituite da Dio. Un altro motivo di preghiera che ci dobbiamo ricordare è la Chiesa perseguitata. Noi dobbiamo essere solidali con i nostri fratelli che sono perseguitati. Ora, qui in Italia di persecuzione ce n'è poca o niente, diciamo qualche insulto, qui può scattare qualche insulto oppure come è successo a qualche fratello che evangelizzava per strada gli hanno tirato qualche pietra ma non l'hanno colpito neanche. Quindi qualche pietra se tu annunci il ravvedimento, che l'esortazione a ravvedersi e l'inferno nel caso uno non si ravveda crea comunque disturbo allora la gente si agita e comunque può lanciarti qualcosa. Però il Dio ci ha preservati da ogni male e ci ha scampato. Ma tutto sommato in questo paese non c'è la persecuzione, la persecuzione che non veniamo incarcerati, non veniamo torturati, non veniamo malmenati. Quindi tutto sommato stiamo abbastanza bene, grazie a Dio. Però ci sono paesi in cui ci sono paesi in cui i nostri cari fratelli, badate bene, i nostri fratelli, quindi i familiari nostri, non conosciamo il viso, non conosciamo il nome, ma ci sono, sono i nostri cari fratelli col quale noi ci troveremo lassù nel cielo. E quando ci chiederanno, quando saremo lassù nel cielo, ci chiederanno, fratello ma tu hai pregato per me, io che ero in carcere e che? Beh, forse nominativamente no, però genericamente dobbiamo poter dire che abbiamo pregato per loro. E lo scrittore agli ebrei ricorda, ricorda agli ebrei appunto che erano perseguitati, gli ricorda con queste parole di appunto pensare anche ai carcerati, ai perseguitati. Al capitolo 13 dell'epistola agli ebrei, capitolo 13, versetto 3, stanno scritte queste parole. Ricordatevi dei carcerati come se foste in carcere con loro, di quelli che sono maltrattati ricordando che anche voi siete nel corpo. Vedete? Quindi lo scrittore agli ebrei ricorda gli ebrei, quindi anche a noi, anche noi, perché la parola di Dio inizialmente, queste parole erano state rivolte a un gruppo ben specifico, ma essendo parole ispirate da Dio, sono parole poi che sono valide per tutta la Chiesa e per ogni epoca, per ogni età e per ogni luogo, per ogni nazione, per ogni tribù, popolo e lingua. Quindi questa esortazione vale anche per noi. Ricordatevi, cioè non dimenticatevi, fratelli, di coloro che sono in carcere per il nome del nostro Signore Gesù Cristo, perché anche loro fanno parte della famiglia di Cristo, anche loro sono i nostri cari fratelli, anche se non li conosciamo. Cioè, se fossero qui vicini a noi, Gesù dice nei Vangeli che noi lo dovremmo andare a trovare, no? Ha, diciamo, approvato taluni che sono andati a trovarlo come Chiesa, no? Configurativamente, sono andati a trovarlo in carcere e ha ripreso altri e cacciati via perché non sono andati a trovarlo in carcere. Quindi se abbiamo la possibilità, c'è un fratello in carcere per dire, facciamo bene ad andare a trovarlo, per incoraggiarlo, per fortificarlo, per, diciamo, stargli vicino, perché è un nostro fratello. Ma se noi non abbiamo questa possibilità, una cosa che dobbiamo fare, dico dobbiamo, non è facoltativo, fratelli, non è una cosa che se hai voglia lo fai e se non hai voglia non lo fai, no? Qui lo devi fare, quindi nel tuo quaderno di preghiera devi aggiungere di pregare per la Chiesa perseguitata, poi ti informi di qualche nazione. Se vuoi pregare per una nazione in modo specifico, come ad esempio la Corea del Nord, i paesi musulmani, la Nigeria, dove, o l'India, dove i cristiani sono, o in Cina, dove sono fortemente perseguitati, ecco, fai bene a documentarti perché? Perché così ci metti il cuore, conosci le sofferenze di questi fratelli, quindi ci metti il cuore quando preghi per loro. E lo devi fare, infatti qui lo scrittore dice anche come bisogna ricordarsi dei carcerati, come se foste in carcere con loro, vedete? Quindi noi dobbiamo simpatizzare con questi carcerati, pregare per loro, almeno pregare per loro, come se noi fossimo in carcere insieme a loro, come se noi soffrissimo le loro stesse sofferenze, perché il corpo di Cristo è uno e noi ne facciamo parte come ne fanno parte loro. Quindi loro soffrono, anche noi dobbiamo soffrire, soffrire come soffrono loro. Per capire profondamente questa loro sofferenza, la si può trovare leggendo determinate testimonianze sulla persecuzione dei cristiani. Io ogni tanto ho pubblicato qualche articolo sulla persecuzione dei cristiani, perché? Perché ciò deve servire a ricordare ai fratelli che devono pregare per la Chiesa perseguitata. Pregare per loro è, e anche per fargli capire, leggendo quel dolore, quella sofferenza profonda che passano questi nostri fratelli, per far capire a chi leggeva anche il sentimento con cui doveva pregare e intercedere per la Chiesa perseguitata. Chiedendo, qualora fosse secondo la volontà di Dio, che fossero liberati. Ad esempio in Etiopia, ecco adesso mi è venuto in mente, in Etiopia ci sono molti nostri cari fratelli che sono chiusi dentro dei container, dove escono pochissime volte, una volta per pochissimo tempo al giorno, si devono fare i bisogni, lì sono schiacciati, è completamente pieno il container e fanno i bisogni lì all'impiede, c'è tutto un disastro, capite? Almeno le ultime informazioni di un po' di tempo fa che io ho letto dicevano queste cose. Ecco, quindi pregare, pregare per la Chiesa perseguitata, perché questo è secondo la volontà di Dio, e secondo la volontà di Dio, pregando per quelli che sono maltrattati e ricordandoci appunto che anche loro sono del corpo, cioè anche loro sono nostri fratelli, fanno parte della nostra famiglia, quindi non li dobbiamo trascurare praticamente, non dobbiamo trascurarli, perché sono la Chiesa perseguitata e quella parte della Chiesa che è più debole, diciamo, ha più bisogno di preghiera, perché? Perché sono chiusi, perseguitati e maltrattati, perché il Signore li deve mandare o gli angeli a consolarli o una grande benedizione, loro devono sentirsi amati dalla Chiesa che è fuori, cioè devono sentirsi che stanno morendo per il nome di Cristo Gesù e che gli altri loro membri del corpo di Cristo non li hanno abbandonati, non devono sentirsi abbandonati in nessuna maniera e noi davanti a Dio non dobbiamo commettere questo peccato, cioè dobbiamo ricordarci della Chiesa perseguitata nelle nostre preghiere, ce lo dobbiamo segnare, non può mancare questo aspetto e questa preghiera. Quindi ricordiamoci, ricordiamoci di pregare per la Chiesa perseguitata. Adesso vediamo un esempio, voglio anche farvi un esempio, talmente importante questo soggetto di preghiera, credo tra i più importanti, a cui io ci tengo maggiormente, è appunto di pregare per la Chiesa perseguitata, perché un giorno ne avremo bisogno noi, saremo noi, diciamo, incarcerati e penseremo, ma chissà se i fratelli stanno pregando per noi. Però leggiamo la scrittura, un caso specifico, prendiamo un caso come esempio e vediamo cosa è successo. Ci sono diversi versetti che dobbiamo leggere da Atti degli Apostoli, capitolo 12, i primi versetti, vediamo dove si arriva. 12.1 di Atti Or, intorno a quel tempo, il re Erode mise mano a maltrattare alcuni della Chiesa, e fece morire per la spada Giacomo, fratello di Giovanni. E vedendo che ciò era grato ai Giudei, continuò e fece arrestare anche Pietro. Or erano i giorni degli Azimi, e presolo lo mise in prigione. Dandolo in guardia a quattro mute di soldati di quattro l'una, perché dopo la Pasqua voleva farlo comparire dinanzi al popolo. Pietro dunque era custodito nella prigione, ma fervide preghiere erano fatte dalla Chiesa a Dio per lui. Vedete come intercedevano la Chiesa. Pietro era stato incarcerato. La Chiesa cosa ha fatto? Cosa ha fatto? Ha cominciato a lanciare delle fervide preghiere, vedete, con tutto il loro sentimento, con tutto il loro cuore. Non solo ha pregato tanto per farlo, ma ci ha messo tutto il cuore. Quindi una preghiera, anche questa di intercessione verso la Chiesa perseguitata, va fatta con tutto il cuore, fervidamente, con zelo. Altrimenti è meglio non fare niente, ma se uno non ci mette il cuore nell'intercedere per la preghiera, nella preghiera di intercessione verso la Chiesa perseguitata, io credo che il cristianesimo non fa per lui e deve lasciare stare, si deve dedicare ad altro. Ma in questo caso i fratelli pregavano per Pietro e pregavano fervidamente. Cosa accadde? Cosa accadde dunque? Or, quando Erode stava per farlo comparire la notte prima, Pietro stava dormendo in mezzo a due soldati, legato con due catene, e le guardie davanti alla porta custodivano la prigione. Ed ecco un angelo del Signore sopraggiunse. E una luce risplendè nella cella, e l'angelo, percosso il fianco a Pietro, lo svegliò dicendo levati prestamente. E le catene gli caddero dalle mani, e l'angelo disse cingiti, e legati i sandali. E Pietro fece così, poi gli disse mettiti il mantello e seguimi. Ed egli uscito lo seguiva, non sapendo che fosse vero quel che avveniva, per mezzo dell'angelo, ma pensando di avere una visione. Or, come ebbero passata la prima e la seconda guardia, vennero alla porta di ferro, che mette in città, la quale si aperse loro da sé, ed essendo usciti, si inoltrarono per una strada. E in quell'istante l'angelo si partì da lui. E Pietro, rientrato in sé, disse, ora conosco per certo che il Signore ha mandato il suo angelo e mi ha liberato dalla mano di Erode, e da tutta l'aspettazione del popolo dei giudei. E considerando la cosa, venne alla casa di Maria, madre di Giovanni, soprannominato Marco, dove molti fratelli stavano raunati e pregavano. Vedete, molti fratelli stavano radunati e pregavano. Prima c'è scritto che stavano pregando per lui, innalzavano a Dio fervide preghiere, con uno zelo particolare, capite? Il Dio ha esaudito queste preghiere. Qui non c'è neanche scritto che era Pietro che pregava per essere liberato, ma parla della preghiera della Chiesa, parla della preghiera dei fratelli a favore di Pietro. Pietro era addormentato, Pietro era legato ed era lì addormentato. Il Dio ha mandato un angelo a liberarlo, vedete? E lo ha liberato. Cioè, mentre abbiamo letto nei primi versetti di questi passi, abbiamo letto che Erode prese mano alla spada e fece uccidere Giacomo, mentre Pietro lo ha liberato. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che la volontà di Dio è quella sempre che poi si avvera. Perché? Perché per uno la volontà di Dio era riportare Giacomo a casa. Giacomo se l'è voluto prendere a casa, l'anima di Giacomo è stata portata in cielo. Mentre Pietro ancora aveva degli incarichi da svolgere qui sulla terra, secondo la volontà di Dio. Quindi per Pietro il Dio ha mandato un angelo per poterlo liberare. Quindi vedete quanto è importante pregare anche per la Chiesa perseguitata. Perché il Signore ascolta e, secondo la sua volontà, pregare per la Chiesa perseguitata. Se noi ne conosciamo i nomi, gloria a Dio, preghiamo nominativamente. Se non conosciamo i nomi, facciamo altrimenti. Preghiamo per tutta la Chiesa in modo generico. Però, fratelli, il Dio vuole che noi preghiamo, che non ci dimentichiamo dei nostri fratelli che sono perseguitati. Ed ora abbiamo visto che Dio vuole che preghiamo per i perseguitati, per i nostri fratelli perseguitati. Ma il Dio non vuole solo questo. Il Dio vuole anche che noi preghiamo per i nostri persecutori, che noi preghiamo per i nostri nemici. E questo lo dice Gesù, lo andiamo a leggere nel Vangelo di Matteo. Leggiamo nel Vangelo di Matteo, al capitolo 5, dal versetto 43. Leggiamo queste parole che dice Gesù. Voi avete udito che fu detto, ama il tuo prossimo e odia il tuo nemico. Ma io vi dico, amate i vostri nemici e pregate per quelli che vi perseguitano, affinché siate figlioli del Padre vostro che è nei cieli, poiché egli fa levare il suo sole sopra i malvagi e sopra i buoni e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. Se infatti amate quelli che vi amano, che premio ne avete? Non fanno anche i pubblicani lo stesso? E se fate accoglienze soltanto ai vostri fratelli, che fate di singolare? Non fanno anche i pagani altrettanto? Voi dunque siate perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste. Vedete, noi dobbiamo tendere alla perfezione. Noi siamo nel cammino della perfezione. Noi dobbiamo assomigliare completamente, il più possibile, a Gesù Cristo. E Gesù, infatti, amò i suoi nemici. Non che Dio non punisce i nemici della Chiesa o quelli che hanno fatto del male a Gesù. Eh, badate bene. Il Dio, alla fine, se non si convertono, li punisce. Ma noi, però, che subiamo il male, che subiamo le persecuzioni dai nostri nemici, dagli uomini malvagi, non dobbiamo imprecare contro di loro, maledirli o fare altre cose sbagliate. Dobbiamo piuttosto pregare affinché i Dio li salvi, si convertano all'iddio vivente vero. Questa è la volontà di Dio. Questa è la differenza. Anche se ci chiamano integralisti, anche se ci chiamano fondamentalisti, esagerati, fanatici, volendo con questo dirci, voler, diciamo, creare un odio di massa verso di noi, creando anche un pericolo, facendo vedere un pericolo, associandoci con la parola integralismo ai talebani, ai musulmani che si fanno saltare in aria e ammazzano tante persone, noi fondamentalisti, integralisti come vogliono chiamarci, noi ci basiamo sul fondamento che è la parola di Dio e non vogliamo uscire da essa. E in questa parola, che noi prendiamo letteralmente, dove è possibile prendere letteralmente, ci sono scritte anche queste parole. Queste parole che abbiamo appena letto, cioè che noi dobbiamo pregare per i nostri nemici, dobbiamo fare loro del bene, non dobbiamo fare del male. Non è che se ci attaccano noi dobbiamo rispondere con la spada, col fucile o coi coltelli. Noi dobbiamo, non possiamo assolutamente reagire, anzi dobbiamo pregare per i nostri persecutori, per i nostri nemici, per quelli che ci maledicono, per quelli che ci fanno il male. Noi dobbiamo vincere il male con il bene. Non possiamo reagire al male con il male. Cioè, è normale anche per quelli del mondo reagire con il bene quando gli fanno del bene. Questo ha voluto dire Gesù. Cioè, quando uno è amato, ama a sua volta quello che lo ama. Ma quello che è difficile, per essere perfetti come è perfetto il nostro Padre Celeste, come è perfetto Gesù Cristo, ci richiede il Signore, per assomigliargli il più possibile, ci viene richiesto di pregare, amare, pregare per i nostri nemici, amare e pregare per quelli che ci odiano, per quelli che ci disprezzano, quelli che ci insultano, quelli che non perdono mai occasione per distruggerci nel morale e infiacchirci le nostre gambe e farci passare per chissà quali mostri in questa terra. Noi non dobbiamo provare sentimenti negativi verso queste persone, radici di amarezza, turbamenti, tantomeno odio e ostilità verso quelle persone. Noi piuttosto dobbiamo avere compassione, ben sapendo, attenzione, che Dio è il vendicatore. Il Dio è giusto giudice, è un vendicatore. Non lascerà impunito colui che fa del male al suo popolo, ai suoi figlioli. Questa è una parte che riguarda il Dio. Ma noi, questo lo sappiamo, ma cosa facciamo? Il Dio, non imputare loro quel peccato, come disse Stefano quando era lapidato. E questo è il sentimento che ci deve guidare, fratelli. Perché Stefano era ripieno di Spirito Santo e benché lo stessero lapidando, disse non imputare loro, Signore, non imputare loro questo peccato. E questo è il cuore che dobbiamo avere. Attenzione, io lo so bene che questo è una di quelle parti, credo, la più difficile. Cioè amare qualcuno, pregare per qualcuno che magari ha ucciso tuo figlio, ha ucciso tua moglie e ti ha torturato a te, tu sei ancora in vita, lo devi amare. Eh, fratelli, questo è difficile, io lo so. Sono il primo ad avere difficoltà, eh. Non è che io non mi è capitato, ma io comprendo già da adesso, anche se non mi è capitato, che è una cosa tra le più difficili da praticare. Però, fratelli, è scritto così e noi dobbiamo praticare anche quei passaggi che sono per noi difficili. Difficili da masticare, da accettare, da credere. Però così è scritto e così anche in questi passaggi difficili dobbiamo prenderli come stanno scritti. Quindi anche per i nostri nemici, oggi cosa volete? Oggi i nostri nemici non è che ci possono insultare, ci fanno dei dispetti, no, al lavoro, nella chiesa magari, quelli che non si santificano ci possono fare, nel gruppo in cui ci troviamo, qualcuno ci può fare dei dispetti, ci possono lanciare delle calunnie contro, cioè possono fare in qualche maniera per farci dei danni. Ebbene, se noi lo veniamo a sapere, non dobbiamo odiare i nostri nemici, non dobbiamo restituire, come si dice nel mondo, no, pan per focaccia. Noi dobbiamo vincere il male con il bene, il male con il bene. E dobbiamo, verso queste persone, dobbiamo pregare per loro, affinché Dio gli conceda misericordia, affinché Dio non li punisca come meritano. Perché, badate bene, se non si ravedono, poi Dio li punirà severamente. Questa è la giustizia di Dio. Questo avviene. Quindi il nostro desiderio non è quello che Lui purisca e distrugga i nostri nemici, ma bensì l'unica nostra vittoria è quella che Dio e i nostri nemici li converta dalla nostra parte. Capite? È l'unica vittoria che noi abbiamo. Non è vittoria se gli altri rimangono della loro opinione. Non è una vittoria se gli altri, i nostri nemici, muoiono. Non è una vittoria se muoiono nella falsità e vanno gettati all'inferno. Per noi non è una vittoria. Vi ricordo che l'unica nostra vittoria è quella di conquistare gli avversari dalla nostra parte. Questa è l'unica nostra vittoria. E quindi a quella noi dobbiamo tendere. Noi dobbiamo guardare sempre alla vittoria, sempre a vincere. Quindi se questa è l'unica nostra vittoria, quella noi domandiamo a Dio. Signore, convinci, salva i nostri persecutori, coloro che ci hanno calunniato, coloro che ci hanno fatto del male. Salvali, apri loro la mente e il cuore affinché possano intendere la verità e possano prendere il cammino della via maestra del nostro Signore Gesù Cristo e della parola di Dio. Questa deve essere l'invocazione, la supplicazione lanciata verso il cielo a Dio per i nostri nemici. Perché questo è gradito a Dio. Questo è scritto e questo dobbiamo fare, fratelli. Per essere perfetti, per tendere. È chiaro che noi non saremo mai perfetti. Finché saremo in questa terra, non saremo mai perfetti. Non arriveremo mai alla perfezione. Però dobbiamo tendere alla perfezione. E questa è una parte importante, una parte importante, difficile, si capisce, da praticare, ma è una parte che bisogna conoscere e poi mettere in pratica. Amare i nostri nemici. E pregare, pregare è per loro. Pregare è per loro e Dio si compiacerà delle nostre preghiere. Chiedendo, appunto, anche come fece Stefano, di non imputare il peccato ai nostri nemici. Però sappiamo che Dio è giusto. Non lascia il colpevole impunito. Il colpevole non rimarrà impunito. Se non si pente e non si ravvede, poi il Dio opererà. Ma noi non ci dobbiamo rallegrare delle punizioni. Perché l'unica nostra vittoria è quella di che siano liberati dalla schiavitù del peccato, siano liberati dalla falsità e dalla menzogna, dal settarismo e dal diavolo che li ha fatti prigionieri. Quindi questa è la nostra unica vittoria. E a quella dobbiamo tendere. Dobbiamo avere ben preciso, ben presente l'obiettivo che noi dobbiamo raggiungere in ogni cosa. Ecco, per quanto riguarda i nostri nemici, l'obiettivo è quello. L'obiettivo vincente per noi è quello di convertirli alla nostra causa. Che poi non è la nostra causa. Alla parola di Dio, alla verità della parola di Dio. E' l'unica nostra vittoria. E dobbiamo pregare il Dio per questo. Ora voglio passare a parlare di un altro soggetto di preghiera. Un'altra cosa da chiedere in preghiera. Per determinate persone, naturalmente. Questo riguarda solo determinate persone. Ed è praticamente il battesimo con lo Spirito Santo. Quando il Dio ci ha fatti nascere di nuovo, ci ha fatti nascere di nuovo, lo Spirito Santo è entrato dentro di noi. I nostri peccati sono stati lavati per mezzo della fede che abbiamo avuto nel sacrificio che Cristo Gesù ha compiuto. E credendo anche che il terzo giorno Gesù è risuscitato. Questo ha fatto sì che noi siamo nati a motivo di questa fede, siamo nati di nuovo, siamo stati purificati dai nostri peccati, siamo stati santificati, lo Spirito Santo è entrato ad abitare dentro di noi e quindi siamo salvi a tutti gli effetti. Per quanto riguarda la salvezza, la nuova nascita, la rigenerazione spirituale è sufficiente. È sufficiente, cioè non c'è bisogno di niente altro. Quindi c'è già lo Spirito Santo dentro tutti i credenti. Cioè se nel credente non c'è lo Spirito Santo, una misura di Spirito Santo, quello non è di Cristo. Perché solo se è presente dentro un uomo lo Spirito Santo lo si può definire salvato, credente, figliolo di Dio. Ma ha in lui una misura di Spirito. Cosa ha stabilito il Dio? Ha stabilito che dopo la nuova nascita, la salvezza, ci sia un'altra esperienza. L'esperienza che deve sperimentare ogni credente, che è quella del battesimo con lo Spirito Santo. Una esperienza, attenzione, che non aggiunge nulla alla salvezza, perché la salvezza è già perfezionata dal momento in cui si è nati di nuovo. Il battesimo con lo Spirito Santo, il riempimento di Spirito, ricevere lo Spirito come in taluni passi è scritto, Questo serve per dare la potenza al credente per poter servire il Dio per compiere determinati servigi per renderlo più efficace nel compito che Dio gli ha affidato o gli affida. E questo riguarda tutti i credenti. La promessa del battesimo con lo Spirito Santo è stata fatta a tutti i credenti, a tutti quelli che sono nati di nuovo. Ora, non tutti oggigiorno l'hanno ricevuto, quindi chi l'ha ricevuto, gloria a Dio. Poi vediamo che anche chi ha ricevuto il battesimo con lo Spirito Santo deve chiedere qualche cosa. Ma chi ancora non ha ricevuto il battesimo con lo Spirito Santo se lo deve annotare anche questo nel suo quaderno delle preghiere, che lo deve domandare, perché così è scritto e lo vediamo nel Vangelo di Luca. Gesù dice queste parole, sta insegnando ai suoi discepoli a pregare, perché gli fanno la domanda Signore insegnaci a pregare, capitolo 11 del Vangelo di Luca. Al versetto 1 gli fanno la domanda, Signore insegnaci a pregare. E poi il Signore Gesù gli insegna come pregare attraverso la preghiera che noi conosciamo del Padre nostro. E poi fa tutto un altro discorso. E arriviamo a questo punto, dal versetto 9. Al versetto 9 sono scritte queste parole. Io altresì vi dico, chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, picchiate e vi sarà aperto. Poiché chiunque chiede riceve, chi cerca trova e sarà aperto a chi picchia. E chi è quel Padre tra voi che se il figliolo gli chiede un pane, gli dia una pietra, o se gli chiede un pesce, gli dia invece una serpe. Oppure, anche se gli chiede un uovo, gli dia uno scorpione. Se voi dunque, che siete malvagi, sapete dare buoni doni ai vostri figlioli, quanto più il vostro Padre Celeste donerà lo Spirito Santo a coloro che glielo domandano. Vedete? Qui la situazione in questa richiesta qual è? Che una persona chiede al Padre, vedete? Quindi c'è di nuovo una situazione ben definita di rapporto tra il Dio e quell'uomo. Che è il Dio e il Padre, quindi quello che invoca il Dio per ricevere lo Spirito Santo è un credente, un figliolo di Dio. Quindi se è figliolo di Dio, e noi sappiamo che non si può diventare figlioli di Dio se non si è nati di nuovo. Quindi si ha già una misura di spirito. Quindi qui in questo caso Gesù sta esortando a pregare i discepoli, quelli che avevano ricevuto una misura di spirito, che erano nati di nuovo perché avevano creduto nel messaggio di Gesù Cristo, li sta esortando a domandare a Dio lo Spirito Santo. Il battesimo con lo Spirito Santo, il riempimento di spirito, la pienezza dello Spirito. Con quale fiducia bisogna andare a Dio a chiedere? Perché l'ha detto prima, ha detto, ma se vuoi che, se è un vostro figliolo, no? Se è un figlio nostro, noi che siamo uomini e che Gesù ci definisce malvaggi. Noi che siamo malvagi, se un nostro figlio ci domanda un pane, noi non gli diamo una pietra, uno scorpione o un serpente. Ma gli diamo il pane, cerchiamo di dargli il meglio che abbiamo. Badate bene, e questo è un rapporto tra il nostro figlio e noi che siamo malvagi. E Gesù, facendo questo paragone, dice, dice, se voi dunque che siete malvagi, sapete dare buoni doni ai vostri figlioli, quanto più, vedete la differenza, quanto più il vostro Padre Celeste donerà lo Spirito Santo a coloro che glielo domandano. Quindi il battesimo con lo Spirito Santo, fratelli, va domandato. Va domandato, non è una cosa facoltativa. Che poi Dio battezza quando vuole lui. Questo è chiaro, come abbiamo già spiegato in altri momenti, che Dio esaudisce le preghiere al momento che lui vuole, quando da lui è stabilito, secondo la sua volontà, secondo i suoi progetti e i suoi disegni. Però a noi ci è ordinato, non facoltativamente, ma ordinato, perché? Perché se tu ci credi, lo devi domandare. Se tu non lo domandi, è chiaro che non ci credi. E questa mancanza di fiducia non va bene davanti a Dio. Questa mancanza di fiducia evidenzia una carenza nella tua fede e nelle promesse di Dio. Tu stai disprezzando una promessa potente e gloriosa di Dio. Quindi se tu non la domandi perché ti fai chissà quali problemi, qui l'ha spiegato chiaramente Gesù, se voi domandate delle cose a Dio, sappiate che Dio non vi dà le cose negative, non vi dà scorpioni e serpenti, vi darà quello che vi è utile, cose buone. Perché i malvagi siamo noi, non è Dio. Non è che se tu chiedi il battesimo con lo Spirito Santo, ti dà un serpente e questo ti travolge come un demone. Quindi non bisogna fare spazio a certi pensieri come taluni hanno fatto spazio, parlo dei cessazionisti, degli antipentecostali, di quelli che contrastano anche questa promessa. Ma noi assolutamente non dobbiamo essere tra questi. Noi siamo tra quelli che invece invocano il Dio per essere battezzati e per ricevere tutte le promesse di Dio, capite? Dobbiamo segnare questo, anche questo nel nostro quaderno e non dobbiamo mancare, non dobbiamo mancare di domandarlo per chi ancora non l'ha ricevuto. Chi l'ha ricevuto deve mantenersi in comunione e deve domandare altre cose che adesso vediamo. Chi non l'ha ricevuto deve cominciare da questo, domandarlo con insistenza, insistendo, sapendo e avendo fiducia in Dio che non ti darà una cosa malvagia, non ti metterà, non ti esporrà a nessun pericolo che riguarda il maligno, perché tu stai pregando Dio, nella tua preghiera il maligno non può entrare se tu ti conduci santamente, se stai chiedendo una cosa secondo la volontà di Dio. E questo è scritto chiaramente, quindi bisogna domandarlo e avere fiducia che Dio battezza ancora oggi con lo Spirito Santo, perché è scritto che in Atti, andiamo a leggere, in Atti 2,38, in Atti 2,38 vediamo la promessa, la promessa del battesimo con lo Spirito Santo, la leggiamo per la prima volta, la si legge in Gioele, dal profeta Gioele, poi viene rinnovata da Giovanni Battista, poi la promessa viene rinnovata da Gesù, e qui adesso la leggiamo per la bocca, per la penna di Luca, ma che trascrive quello che la bocca di Pietro ha pronunciato. Capitolo 2, al versetto 39, sta parlando del battesimo con lo Spirito Santo, di ricevere il dono dello Spirito Santo, di questo qui, di questa promessa si tratta, Atti 2,39, poiché per voi è la promessa, e per i vostri figlioli, e per tutti quelli che sono lontani, per quanti il Signore Dio nostro ne chiamerà. Quindi vedete, quella promessa per chi è? Lo dice, per voi, per voi giudei, Pietro parlava ai giudei, per voi giudei è questa promessa, Poi dice, per i vostri figlioli, quindi giudei e i discendenti dei giudei, vedete? Poi anche per tutti quelli che sono lontani, quelli che sono lontani nella scrittura, vuole intendere quelli che sono lontani dalla legge di Dio, che erano quelli che non erano ebrei, cioè i gentili. E noi oggi siamo considerati gentili, quindi qui sta dicendo che anche la promessa dello Spirito Santo era fatta anche ai gentili, è fatta anche ai gentili. Poi termina con la promessa dicendo, per quanti il Signore Dio nostro ne chiamerà. Questo è il tempo, vedete? Mentre prima ha individuato le persone a cui la promessa è diretta, l'ultima frase individua il tempo, per quanti il Dio ne chiamerà, per il futuro, per quanti il Dio ne chiamerà, fino a quando il Signore tornerà, continuerà a battezzare con lo Spirito Santo. Ora, questa è la promessa e faremo bene a crederci. E se ci crediamo a questa promessa di Dio, dobbiamo domandarla. Se ancora non l'abbiamo ricevuta, se ancora non è stata ricevuta questa promessa, noi dobbiamo, siamo obbligati a domandarla. Perché dobbiamo manifestare fede nelle promesse di Dio. Quindi Dio vuole, come ha detto Gesù, che noi preghiamo, preghiamo per ricevere lo Spirito Santo, credendo che Dio ce lo doni, naturalmente. pregando con fede, credendo alle promesse dell'Iddio Altissimo. Oltre al battesimo con lo Spirito Santo, chi ha già ricevuto il battesimo, deve pregare per ricevere i doni spirituali. Ad esempio, Paolo scrive ai Corinzi, Ai Corinzi scrive, ai Corinzi che abbondavano, parlavano tutti in molte lingue, però gli dice così, spiegando cosa erano i doni spirituali, i doni spirituali sono una manifestazione dello Spirito, dei doni particolari che lo Spirito Santo, in questo caso, distribuisce a coloro che lui vuole, coloro che sono già battezzati con lo Spirito Santo, e che gli vengono aggiunti questi doni particolari, che sono una manifestazione dello Spirito. I doni spirituali sono una manifestazione dello Spirito diretta, cioè, è lo Spirito che opera, che si fa vedere in questi doni. Tra questi doni, tra questi doni, Paolo dice, visto che i Corinzi ricercavano molto quello delle lingue, Paolo li esortava, visto che avete quelli delle lingue, no? Capitolo 14, versetto 13, Paolo dice queste parole. Perciò, chi parla in altra lingua, preghi di poter interpretare. Vedete? chi ha ricevuto, chi parla in altre lingue perché ha ricevuto il battesimo con lo Spirito Santo ed ha, perché il battesimo con lo Spirito ha, porta con sé il segno delle lingue. Questo è obbligatorio, non è facoltativo, non è che alcuni sono stati battezzati e non hanno parlato in lingue, ma tutti quelli che vengono battezzati con lo Spirito parlano lingue straniere di cui loro non conoscono il significato, l'interpretazione. Ora, c'è anche un dono chiamato di diversità di lingue, c'è la possibilità di parlare più lingue. A questo, deve essere collegato, però, a tutte queste varianti di lingue, c'è bisogno, per edificare tutta la Chiesa, c'è bisogno del dono dell'interpretazione delle lingue, cioè di rendere, di passare da una lingua all'altra nel tradurre una lingua incomprensibile ad una invece comprensibile a tutta la comunità, affinché tutti siano edificati. Allora, chi parla in altra lingua non parla agli uomini, ma a Dio, dice sempre Paolo. Cioè, chi parla in altra lingua, e il parlare in altra lingua, è una preghiera, faccio un esempio, preghiera rivolta a Dio, è un parlare delle cose grandi di Dio, è un cantare a Dio, salmeggiare, è un benedire a Dio, capite? Quindi, chi parla in altra lingua sta parlando a Dio, chi interpreta non può mandare un messaggio agli uomini. Ecco, questo è un elemento falso che potete sentire in queste comunità massonizzate, perché hanno assaltato i doni soprannaturali di Dio e li hanno trasformati in qualcosa di umano e falso, naturalmente. Quindi, tutte le volte che voi avete sentito parlare in altre lingue e poi c'è stata un'interpretazione che era un messaggio di Dio rivolto agli uomini, era falso, almeno l'interpretazione era falsa. Delle lingue non lo so, perché bisogna sentirle. Ma l'interpretazione, ve lo dico, se era considerato interpretazione, quel messaggio agli uomini è falso. Perché? Perché la traduzione, l'interpretazione è una traduzione di quello che è stato detto in lingue. Quindi, se il parlare in lingue era un parlare rivolto a Dio, non può essere un messaggio rivolto agli uomini, capite? Quindi, l'interpretazione deve essere anch'essa una preghiera. Quindi, se io in lingue ho pregato, chi interpreta deve pregare, deve interpretare una preghiera, un parlare delle cose grandi di Dio, un cantico rivolto a Dio. Ecco, qui Paolo esorta, esorta, poi in un secondo momento, in un altro momento, parleremo più dettagliatamente, prenderemo le scritture, adesso ho solo accennato, ho aperto questa parentesi che definiva le lingue che abbiamo toccato per un altro motivo, per quanto riguarda la preghiera, per pregare, per ricevere il dono dell'interpretazione. In un altro momento, poi parleremo nei dettagli anche dei doni spirituali. Ma, in questo caso, io ho citato questo passaggio di capitolo 14, versetto 13 di Prima Corinzi, per farvi notare che qui Paolo esorta quelli che parlavano in altre lingue a pregare per poter interpretare, per ricevere il dono dell'interpretazione delle lingue. Quindi, chi parla in altre lingue deve pregare di ricevere il dono dell'interpretazione delle lingue. Cioè, i doni spirituali vanno desiderati, vanno richiesti a Dio. Ad esempio, il dono maggiore, il dono spirituale maggiore, per una questione di edificazione, attenzione, che tra i doni spirituali sono interessanti da quale punto di vista di interesse della Chiesa vanno visti i doni spirituali. Vanno visti dal punto di vista della edificazione di tutta la Chiesa. Ora, la scrittura, se voi leggete capitolo 14, versetto 39, leggiamo qual è uno dei doni che bisogna desiderare, che è quello della profezia, perché la profezia è un parlare da parte di Dio agli uomini, cioè l'uomo con la sua bocca annuncia un messaggio di Dio sospinto dallo Spirito Santo, un messaggio di Dio all'uomo, in lingua comprensibile. E questo, essendo in lingua comprensibile per tutti, edifica tutti, capite? Edifica tutti, perché Dio sta parlando alla sua Chiesa. Al versetto 39 leggiamo, pertanto, fratelli, bramate il profettare e non impedite il parlare in altre lingue. Quindi bisogna desiderare ardentemente di ricevere il dono di profezia. Cioè, perché il credente deve tendere a desiderare i doni maggiori. E questo lo troviamo al capitolo 12 versetto 31. C'è scritto così, sempre Paolo scrive ma desiderate ardentemente i doni maggiori. E poi, in un altro passaggio che abbiamo letto prima, abbiamo visto bramate di poter interpretare. Bramate è il profettare. Quindi, desiderare ardentemente, vedete, quindi, qui Paolo ci mette anche il sentimento, non solo dobbiamo pregare per i doni spirituali, ma dobbiamo desiderarli ardentemente, come tutte le promesse di Dio, come tutti i doni di Dio, li dobbiamo desiderare grandemente, fortemente, il più possibile. Quindi ci dobbiamo applicare in preghiera e desiderare che Dio adempia in noi le sue promesse. Promesse fatte a tutti i suoi figlioli. Ad esempio, per quanto riguarda i doni spirituali, quelli saranno distribuiti ai credenti secondo la volontà di Dio. Ma noi facciamo bene a desiderarlo, facciamo bene a chiederlo a Dio, perché poi sarà lui a darci i doni che avrà stabilito in base al servizio che dovremo rendere. Capite? Noi, quello che dobbiamo fare noi è chiedere, pregare, ardentemente, desiderare anche questi doni che Dio li distribuisca e lo dobbiamo fare. Anche per quanto riguarda, quindi vedete, pregare, questa era un'altra cosa che dobbiamo aggiungere nella nostra lista delle preghiere, pregare per i doni spirituali, per noi e per tutta la Chiesa, cioè per l'edificazione della Chiesa, che Dio li doni, li distribuisca a noi, ma che li distribuisca anche agli altri, a tutta la Chiesa, a quelli che Dio vorrà distribuirli secondo la sua volontà. Però noi ci è dato di pregare, quindi anche i doni spirituali devono rientrare nella nostra lista delle preghiere, da chiedere, da chiedere a Dio, senza stancarsi, senza stancarsi, senza scoraggiarsi, anche se non vediamo che oggi, domani non sia adempiuta questa promessa, noi siamo chiamati senza stancarci a continuare a domandare. Fino alla fine, questo ci è domandato e questo dobbiamo fare. Fino a quando Dio non ci dirà chiaramente, come ha fatto con Paolo quando gli ha detto no, la mia grazia ti basta, quando Dio ci dirà no, non chiedermi più questo, allora noi smetteremo perché non vogliamo disubbidire le parole del Signore. Ma fino a quando non c'è questo no, è un sì, è un sì prorogato e un sì mandato avanti nel tempo, ma noi dobbiamo perseverare continuamente fino a quando Dio poi non ci darà quello che desideriamo, quello che stiamo domandando. Quindi perseveriamo, bramiamo i doni di Dio, anche quelli potenti, non ci facciamo diciamo dei pensieri, non facciamo dei pensieri cattivi come dire ma a me i doni spirituali il Signore non me li dà perché io chi sono? Sono carne e polvere? Sì, sei carne e polvere come lo sono io e come lo era Elia e come lo era Paolo, Pietro e tutti gli altri. Siamo stati comprati tutti allo stesso prezzo, il prezzo è il sangue di Gesù Cristo, quindi se Dio ci ha reputati di essere acquistati a questo caro prezzo e anche le altre promesse che valgono per tutti gli altri valgono anche per noi nella stessa maniera, quindi non ci dobbiamo sminuire, gettare via dicendo ah ma io chi sono per ricevere i doni da Dio? Tu chi sei? Tu prega, santificati, invoca il Signore e aspetta la sua risposta. Chi sei? Chi sei? Tu prega, questo ti ha detto di fare, poi il Signore opererà lui secondo la sua volontà. Noi non ci dobbiamo, non dobbiamo giudicare ingiustamente gli altri, ma non dobbiamo giudicare ingiustamente neppure noi stessi, capite? Cioè dobbiamo darci il giusto valore, cosa difficile per noi stessi, è più facile giudicare gli altri che noi stessi. Io sto dicendo in maniera in questo caso sfavolevole per noi, nel senso che riteniamo gli altri superiore a noi, gli altri ricevono i doni e noi non li riceviamo. Ma non è così, il Dio intanto ti ha dato la salvezza e questo l'hai ricevuto uguale a come l'ha ricevuto l'Apostolo Paolo, Pietro, Giovanni e Giacomo. Quindi se non ha avuto riguardi personali, non ci sono differenze nella salvezza, non ci saranno neanche per tutti gli altri doni. Quindi Dio ti darà quello che avrà stabilito di darti, ma tu lo devi domandare con piena fiducia secondo quanto è scritto nella parola. Quindi non vi fate prendere da pensieri malvagi dal dubbio o da altre cose strane che non sono da Dio. Quindi domandate, non vi fermate, domandate, perseverate a domandare a Dio e aspettate, vedrete che noi preghiamo per la liberazione della Chiesa dal 1991, fratelli, stiamo pregando che Dio liberi la Chiesa da queste comunità, prima non sapevamo che erano massonizzate, adesso lo sappiamo e quindi pregavamo già allora che Dio li liberasse da queste malvagità, da queste catene del male. Ecco, oggi il Dio sta cominciando ad operare, vedete, sono passati anni, però il Dio ha ascoltato le preghiere, perché erano anche secondo la sua volontà. Quindi il Signore ci ha ascoltati e a suo tempo ci esaudisce. Noi preghiamo come dover ricevere ogni cosa subito in questo momento, però se non lo riceviamo, non fa niente, vuol dire che domani dobbiamo insistere di nuovo. Fino alla fine, fratelli, dobbiamo arrivare ad essere accolti in cielo continuando a domandare tutto quello che ci è possibile domandare, quello che la scrittura ci impone di domandare. non vi scoraggiate, non vi abbattete perché il Dio non disprezza la vostra preghiera. Naturalmente ci sono le condizioni di cui abbiamo accennato prima e anche all'inizio di questa predicazione, di questa esortazione a pregare, ci sono delle condizioni, è chiaro che devono esserci queste condizioni nel credente, però noi dobbiamo pregare, il Signore ascolta le preghiere dei Santi, dei Suoi figlioli, li ascolta e li esaudisce. Adesso andando avanti voglio parlare anche della preghiera della preghiera per la guarigione, eh sì, perché è un'altra di quelle cose di cui noi abbiamo bisogno, perché siamo in questo corpo, questo corpo che, diciamo, si deteriora, si ammala, e la scrittura ci insegna che Gesù Cristo è morto nella croce, diciamo, ha portato nel suo corpo anche le nostre malattie, cioè, per le sue, è scritto per le sue lividure siamo stati sanati, quindi le lividure, le lividure che sono andate, si sono andate a finire nel corpo di Cristo sono le nostre malattie, questo ci fa capire che come, questo ci fa capire che come Gesù è morto per i nostri peccati e quindi sulla croce, sul suo corpo sono andati a finire i nostri peccati, così anche le nostre malattie seguono la stessa sorte, diciamo, e Giacomo esorta a pregare anche per questo, infatti al capitolo 5 di Giacomo leggiamo queste parole, capitolo 5 versetto 13 c'è fra voi qualcuno che soffre preghi quindi c'è qualcuno tra noi che ha una sofferenza un turbamento una malattia un qualcosa che dentro di lui lo fa stare male sia fisico spirituale quello che uno ha c'è scritto se soffri devi pregare perché perché Giacomo sapeva che è cosa buona davanti a Dio se uno soffre ha un problema lo presenta davanti a Dio e il Signore lo esaudisce lo può guarire lo può liberare da ogni turbamento da ogni agitazione da ogni legame da ogni cosa che gli fa del male leggendo ancora avanti c'è scritto c'è qualcuno fra voi infermo chiami gli anziani della Chiesa e preghino essi su lui ungendolo d'olio nel nome del Signore e la preghiera della fede salverà il malato e il Signore lo ristabilirà e se gli ha commesso dei peccati gli saranno rimessi quindi il Signore ha stabilito anche in questa maniera quando c'è qualcuno infermo chiama gli anziani della Chiesa e gli anziani della Chiesa devono pregare su di lui ungendolo d'olio e si ha commesso dei peccati e gli saranno rimessi questo è stabilito vedete tutta la guarigione è strettamente legata quindi alla preghiera continuando ancora a leggere al versetto 16 c'è scritto c'è scritto ancora confessate dunque i falli gli uni agli altri e pregate gli uni per gli altri onde siate guariti molto può la supplicazione del giusto fatta con efficacia vedete quindi quindi qui il Signore esorta a confessare i peccati e a pregare gli uni per gli altri vedete la conseguenza qual è di quella di pregare gli uni per gli altri è quella onde siate guariti e quindi la malattia è strettamente legata a queste preghiere cioè noi dobbiamo pregare gli uni per gli altri per essere guariti capite cioè se un fratello è malato dobbiamo tutti pregare per lui affinché il Signore lo guarisca poi quando sarà un malato io sarà malato un altro tutti pregheranno per la sua guarigione così è stabilito e così bisogna fare con perseveranza questo della malattia anche queste da segnare ce ne sono tante di cose che bisogna mettere nella nostra lista delle preghiere ma questo è già un numero quello che vi sto elencando oggi è già un buon numero da ricordare è già un buon numero che in mezzo a tutte le cose che dobbiamo chiedere pregare a Dio ci sono anche queste preghiere quindi vedete se mettiamo insieme tutto quello che abbiamo detto sulla preghiera in queste varie predicazioni che sono state fatte vedete come un minimo di un'ora non sia neanche sufficiente per citare tutte queste cose per fare una preghiera come veramente piace a Dio ecco perché vi ho detto che Gesù aveva esortato quando era sul monte la sera che fu tradito ha esortato i suoi discepoli a pregare a pregare almeno un'ora non sono stati capaci di vegliare e pregare neppure un'ora quindi anche il tempo è necessario quando si va in preghiera vedete con tutto quello che c'è da domandare a Dio è necessario è necessario prendersi del tempo non si può andare in cameretta a chiudersi c'è cinque minuti liberi adesso prego il Signore non è che uno c'ha cinque minuti prega cinque minuti va bene però non è questo che va bene quello che va bene davanti a Dio è chiudersi nella cameretta senza limiti di tempo io entro in cameretta e prego fino a quando tutto non si è esaurito fino a quando lo Spirito Santo non mi ha fatto dare tutto fuori da me tutto quello che potevo dare in quel momento lo do poi sia mezz'ora sia un'ora siano due ore o sei ore dopo si vedrà quando sei lì quando sei dentro lì quando sei nella tua cameretta quando sei nella tua cameretta e sei andato a incontrare il Signore Dio lassù nel cielo al trono della grazia capite perché quando credetemi che quando si comincia a presentarsi al trono della grazia e cominciate a sentire una grande benedizione dentro di voi il tempo poi non è più importante anzi trascorre velocemente avete fatto una preghiera come piace al Signore anche per quanto riguarda il tempo quindi considerate che le preghiere tutti questi soggetti di preghiera che dobbiamo noi domandare a Dio ci richiedono anche del tempo quindi non possono essere chieste tutte queste cose in poco tempo in cinque minuti in dieci minuti ma devono essere c'è bisogno di un po' di tempo quindi ci richiudiamo quando abbiamo del tempo quando abbiamo del tempo e lo dobbiamo trovare il tempo non è che non ho tempo e non lo faccio no 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 lo dobbiamo trovare giornalmente perché questa è la volontà di Dio questa è la volontà di Dio che noi preghiamo con insistenza e anche abbondantemente e chiedendo a Dio tutte le cose che sono necessarie che sono emerse che sono scritte nella parola di Dio e che la parola ci insegna che dobbiamo ci esorta la parola a domandare queste cose tra le cose quindi abbiamo visto che dobbiamo domandare è anche la anche dobbiamo domandare anche la guarigione divina la guarigione di Dio per il nostro corpo per la nostra anima secondo i nostri bisogni ma non solo dobbiamo pregare noi per noi stessi ma dobbiamo anche pregare gli uni per gli altri per essere guariti anche gli altri capite quindi quando sappiamo che un fratello una sorella non sta bene dobbiamo segnarcelo ce lo dobbiamo segnare perché dobbiamo insistere in preghiera davanti a Dio e domandare che Dio lo guarisca o la guarisca e la liberi da quelle malattie perché per le lividure del Signore noi siamo stati sanati e questo avviene con la partecipazione diciamo di tutti può avvenire in una maniera per la preghiera degli anziani con l'unzione dell'olio ma può anche avvenire per la preghiera del singolo che prega per se stesso e viene guarito e può anche avvenire per la preghiera di tutta la Chiesa tutti insieme che pregano per la persona malata e questa viene guarita perché così è scritto e così bisogna fare pregate gli uni per gli altri onde siate guariti quindi anche la guarigione divina bisogna domandarla al Signore in preghiera quando sappiamo quindi siamo obbligati a pregare per la guarigione di un fratello quando sappiamo che questi sta male quindi anche il fratello che sta male però lo deve far sapere perché non è che per forza il Dio ce lo deve rivelare in maniera soprannaturale che tu stai male e hai questa malattia però se tu ci fai sapere che stai male tutti noi preghiamo per te che stai male capite per la tua guarigione qui da una parte bisogna farlo sapere dall'altra i fratelli sono chiamati a pregare per la guarigione del fratello o della sorella e volevo concludere questo discorso con i soggetti di preghiera da aggiungere nella nostra lista con quello della preghiera per il cibo le parole di Paolo a Timoteo allora prima Timoteo capitolo 4 nel versetto 4 sono scritte queste parole poiché tutto quel che Dio ha creato è buono e nulla è da riprovare qui sta parlando dei cibi eh dei cibi quel che Dio ha creato è buono e nulla è da riprovare se usato con rendimento di grazie perché è santificato dalla parola di Dio e dalla preghiera è santificato vedete è purificato cioè se qualche cibo che noi mangiamo è impuro ma noi non lo sappiamo ecco è purificato dalla preghiera quindi noi siamo chiamati a ringraziare il Dio quando per il cibo siamo chiamati a ringraziare il Dio a pregare che Dio purifichi anche il cibo che lo purifichi da ogni male tanto più che oggi fratelli voi sapete si legge tante volte che nei cibi si dice che quel cibo è contaminato e quell'altro ci sono i ragni in quella banane c'è un animale e quell'altro c'è insetti di tutti i tipi veleni chimici nel latte è contaminato l'acqua è contaminata tutto è contaminato tutto sarebbe impuro e contaminato ma noi sappiamo come anche ha detto Marco è scritto Marco nel suo Vangelo che riporta le parole di Gesù che anche se bevessero alcunché di mortifero non ne avranno alcun male quindi anche se questi cibi sono avvelenati anche se i cibi sono contaminati dai veleni più potenti noi siamo chiamati a pregare con fede anche per il cibo ringraziando il Dio del cibo che ci ha dato naturalmente se non lo sappiamo perché se no sarebbe tentare il Dio se noi sappiamo che quel cibo è avvelenato e lo prendiamo per sfidare il Dio allora no allora ciò è tentare il Dio e ci avviene l'avvelenamento come è giusto che sia ma se quel cibo è avvelenato io non ne so niente io ringrazio il Dio Signore grazie perché mi hai dato questo cibo anche oggi hai messo questo cibo nella mia tavola ti chiediamo di provvedere il cibo per tutti i poveri gli orfani e le vedove e gli stranieri del tuo popolo chiediamo anche questo ma chiediamo che Dio purifichi il cibo che è sulla nostra mensa e che sia purificato da ogni male questo purtroppo è vero che i cibi sono veramente molto contaminati ma questo noi non lo dobbiamo temere dobbiamo avere fiducia in Dio ecco perché dobbiamo dare molta importanza alla preghiera fatta prima di mangiare ringraziare Dio prima di mangiare perché quella preghiera la fede in Dio e quella preghiera purifica il cibo che noi quello che noi compriamo che portiamo a casa quello che noi mettiamo nella nostra tavola quel panino che ci possiamo mangiare anche comprandolo in un bar o dovunque ci troviamo grazie Signore per il cibo che tu ci hai dato ti chiediamo Signore di purificarlo da ogni male sia benedetto il tuo nome o Signore ecco quindi che quel cibo viene benedetto e purificato e questa fiducia dobbiamo avere in Dio perché Dio come abbiamo detto nel Vangelo di Marco c'è scritto che anche se questi saranno i segni di coloro che avranno creduto anche se verranno alcunché di mortifero non ne avranno alcun male dobbiamo credere anche a queste parole dobbiamo avere fiducia anche in queste parole che riguardano i cibi perché noi siamo figlioli dell'Idiotissimo e c'è scritto che diciamo dobbiamo pregare Gesù pregava prima di distribuire il cibo Gesù pregava quindi benediva benediva il cibo pregava il Dio ringraziava il Dio per il cibo quindi avveniva una purificazione e noi oggi facciamo la medesima cosa invocando il Dio nel nome di Gesù Cristo chiedendo la purificazione e la benedizione del cibo questo cibo viene purificato crediamo che Dio operi e ci ascolti e allora ciò avviene viene benedetto e purificato da ogni male e quindi non sottovalutate fratelli allora non dobbiamo temere i virus le contaminazioni le malattie che viaggiano di cui quelli del mondo temono non dobbiamo temere le contaminazioni dei cibi naturalmente se lo sappiamo non dobbiamo tentare il Dio e quindi li scartiamo non li andiamo a comprare i cibi di cui si sa che sono veramente avvelenati che hanno un veleno potente magari una contaminazione particolare lasciamoli stare compriamo altro intanto voglio dire nei mercati si può scegliere ma anche quelli che noi non conosciamo e non sappiamo prima di assumerli dobbiamo ringraziare Dio e chiedere a Dio che li purifichi da ogni male perché questa è la volontà di Dio e vi dico questo perché non bisogna sottovalutare non bisogna sottovalutare la preghiera prima di prendere il cibo perché è una preghiera molto importante e può darsi anche che da quella preghiera dipende la nostra vita se quel cibo è contaminato la preghiera fatta troppo frettolosamente o senza fiducia oppure non fatta per niente poi dopo ci sentiamo intossicati capite quindi non sottovalutate neanche la preghiera per il cibo ma fatela con tutto il cuore quindi ricordatevi delle parole che sono scritte in Marco e abbiate piena fiducia in quello che il Signore ci ha lasciato scritto e dobbiamo credere anche alle esortazioni della parola per pregare per tutte queste cose queste erano solo un elenco un piccolo elenco di cose che tra le altre si devono domandare quindi fatevi anche questo elenco questa lista di cose da domandare e integratela con altre cose che studiando le Sacre Scritture trovate ogni tanto c'è scritto qualcosa che bisogna domandare che è buono domandare a Dio quindi mettiamole aggiungiamole tra le cose da domandare al Signore e questa era l'esortazione a pregare per queste cose che oggi volevo ho voluto darvi fratelli e sorelle a Dio siano la gloria l'onore e la lode nei secoli dei secoli Amen